Perché come è messo il Bari ha bisogno di vincere le partite soltanto. Io volevo dirti, giusto per quel che mi risulta, che ho parlato col procuratore di Maccarone, Silvano Martina, non è il problema del prestito. Maccarone non vuole venire a Bari come non vuole andare a Cesena, non vuole andare pure all'Atalanta, sta aspettando la possibilità di una squadra di maggior blasone, sarebbe disposto a fare anche la quarta, quinta punta, la Juventus o il Milan, che ci stanno pensando, o addirittura a Napoli, c'è stato da Napoli, pare che l'abbia chiesto anche il Brescia, perché lì c'è il suo ex allenatore Beretta, forse il Brescia ci penserebbe. Anche il Genoa credo, perché sono in Brescia. Sì, e lì forse andrebbe, altrimenti resta a Palermo e non dimentichiamoci un'altra cosa, il prestito non sarebbe gratuito ma oneroso, almeno mezzo milione di euro, perché il Palermo ha pagato a Maccarone 4 milioni e mezzo di euro. Però Giulio, quando sei in difficoltà è chiaro che... Quando sei in difficoltà, secondo me il Bari deve pensarci prima a prendere un attaccante, io non ho condiviso, lo sai, abbiamo parlato, la politica non tanto del Bari e di Angelozzi, sono stati fatti degli errori clamorosi, non si può arrivare l'ultimo giorno di mercato senza avere un'alternativa a Rinaudo, non stiamo parlando poi di un nazionale, stiamo parlando di Rinaudo, un giocatore che mi pare non abbia visto il campo quest'anno. Un'alternativa è il Bari dove averla, Matarese si è fidato molto di Angelozzi, Angelozzi ha sbagliato e mi spiace che adesso, anche ora, mi risulta che il Bari sia parecchio in difficoltà per il mercato. Perché non è facile trovare un certo tipo di giocatori, le altre si stanno muovendo tantissimo, stanno già... sapere che Lanzafame può andare al Cesena, al tifoso del Bari può dar fastidio. Beh, però bisogna essere Lanzafame, un giocatore che può interessare al Bari. Sì, lo so, però evidentemente i giocatori che interessano sono pochi, bisogna muoversi con... Però devo dirti, Giulio, ho una posizione molto più morbida nei confronti di Angelozzi, lo dico nell'ottica di un confronto aperto. Cioè, io credo che Angelozzi poi alla fine ha fatto quello che poteva fare fondamentalmente, non poteva fare molto di più, bisogna vedere che indicazioni gli ha dato anche Ventura, che aveva bisogno di un certo tipo di difensore. Lui però ha messo questa colpa, ha detto io ho sbagliato nel, come dire, non avere un'alternativa pronta per... a Rinaldo, l'ha detto anche nei giorni scorsi in conferenza stampa. Devo anche dirti che tolto questo, che però è una colpa, perché comunque, come dicevi tu, non bisognava andare all'ultimo momento con senso di alternativa, per le altre operazioni non vedo gravi errori da parte di Angelozzi. Però, però, per te dico una cosa, assistendo molto spesso al mercato in diretta, gli ultimi giorni, le ultime ore, sono le grandi squadre che possono fare il colpo nelle ultime ore. Perché basta che il Presidente arrivi, dica 5, 8, 10 milioni, le prendo. Come hanno fatto il Milan per Ibra, lo sappiamo tutti che il Milan avrebbe preso Ibra, l'ho fatto all'ultimo momento anche per spiazzare la concorrenza. Le grandi squadre hanno grosse difficoltà a far colpi alla fine. Io ho visto negli anni scorsi i Bari avere tantissime difficoltà a prendere i giocatori all'ultimo minuto. Facciamo anche dei collegamenti in diretta con te dei Bari, in un pomeriggio si va da ricerca di 3, 4, 5 attaccanti, poi non arriva nessuno. Non risparmi poi, non spendi di più, non risparmi di meno prendendo un certo tipo di giocatori. E io ho la sensazione, ripeto, che le cose saranno molto complicate, anche perché per gennaio i nomi non è che ce ne siano tanti. Cioè sento per esempio da altri, il Parma che si sta muovendo, che vuole dar via Bozinov. Probabilmente c'è un altro tipo di disponibilità da parte della società, perché se mi parli del Parma, il Parma i soldi per giovinco li ha messi. Il Parma i soldi per giovinco li ha, o comunque ha promesso di darli alla Juventus. Allora, perfetto. Allora, tornate un attimo Giulio perché c'è la pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme con il Biancherosso TV Sport.